Il progresso della chirurgia, come di altre branche del sapere, non è mai stato un lento accrescimento delle conoscenze, quanto piuttosto fatto da rapide accelerazioni seguiti da periodi di stallo, come nel salire i gradini di una scala di cui ancora oggi non vediamo la fine. Uno di questi scalini è stato salito 30 anni fa e va oggi sotto il nome di rivoluzione mini-invasiva. L'invenzione, la tecnologia che ha reso possibile la nascita della chirurgia mini-invasiva si chiama CCD ed è l'occhio elettronico che costituisce il cuore delle piccole telecamere a colori ad alta risoluzione, propria di questa metodica, che accopiate a strumenti ottici lunghi e sottili, consentono di vedere all'interno delle cavità dell'organismo, l'addome e il torace. Quindi il chirurgo non opera più guardando direttamente il suo paziente, ma guardando un monitor che gli restituisce le immagini di questa telecamera. Ha entrambe le mani libere per lavorare, passando attraverso altri piccoli forellini e può essere aiutato da un assistente che condivide la stessa immagine. Si riduce considerevolmente il dolore post-operatorio, le complicanze sono in genere minori, si va a casa prima e il vantaggio estetico è a tutti evidente. Tuttavia il frettoloso passaggio dalla metodica tradizionale a cielo aperto a quella mini-invasiva ha portato con sé anche qualche problema. Uno dei problemi è quello che non vediamo più in tre dimensioni, ma vediamo su un monitor che è piatto, bidimensionale e in più abbiamo quasi del tutto rinunciato al senso del tatto, che è l'altro senso importante che il chirurgo ha nel corso di un intervento. Uno dei sistemi per compensare questa perita di sensorialità è quella di implementare delle tecniche di realtà aumentata nel corso dell'intervento, cioè la possibilità di fondere la diagnostica preoperatoria ricavata dalla TAC con la visione diretta dell'intervento. In anni più recenti ci siamo impegnati a studiare altri sistemi per la pianificazione dell'intervento. Uno è quello, per esempio, che stiamo facendo a Pavia, di utilizzare delle stampanti tridimensionali per ottenere degli oggetti fisici che rappresentano l'anatomia del paziente che dobbiamo operare. Questo viene utilizzato sia per spiegare al paziente ciò che dovremo fare, ed è già un passaggio importante, che per la formazione dei chirurghi più giovani, che per la nostra navigazione intraoperatoria. Il limite è anche rappresentato dalla natura fisica degli strumenti che utilizziamo. Sono strumenti lunghi e sottili con in punta un'estremità funzionale, pinze, forbici, ritrattori ed altro. Si sente la necessità di avere un'altra categoria di strumenti, strumenti che abbiano un polso interno, come la nostra mano, che consenta di approcciare le strutture con l'angolo giusto. Strumenti di questa natura non sono però controllabili attraverso un sistema puramente meccanico, ma ci vogliono sistemi cosiddetti meccatronici. Questi sistemi si chiamano telemanipolatori, ma sono quelli che impropriamente ormai tutti quanti, compresi noi, chiamiamo sistemi robotici. I sistemi robotici hanno due componenti, la console a cui siede il chirurgo e il carrello paziente, che è fatto da questa specie di Dea Cali con quattro braccia, una tiene la telecamera, le altre tre tengono gli strumentari, che sono strumenti intercambiabili con un polso interno. Il chirurgo guarda in un visore che gli restituisce finalmente un'immagine tridimensionale del campo operatorio e controlla gli strumenti attraverso questi joystick, che sono in grado di trasmettere in tempo reale e in modo fedele ogni piccolo movimento delle dita agli strumenti. Oggi siamo alla quarta generazione dei sistemi robotici, sono più di 3.000 quelli installati in tutto il mondo e un quarto di milione gli interventi che ogni anno vengono fatti con questa tecnologia. Io credo che la vera rivoluzione introdotta dalla chirurgia robotica stia nella natura fisica della console, quindi dell'interfaccia uomo-macchina. Difatti la chirurgia robotica sancisce la nascita della chirurgia virtuale, vuole dire che il chirurgo e il paziente, per la prima volta nella storia, sono fisicamente separati. Ci indirizziamo quindi a passi molto veloci verso una chirurgia personalizzata. La tecnologia viene spesso evocata come il motore più forte, più importante del progresso e quanto vi ho fin qui raccontato sembrerebbe in qualche modo confermarlo. Ma oggi corriamo il rischio che la chirurgia, in nome del progresso tecnologico, in nome della crescente ultra specializzazione, finisca per accentuare una sua latente estraneità al rapporto diretto col paziente. Il chirurgo ha l'obbligo di fare molto di più di quanto gli viene concesso dalla sua abilità tecnica o dalla tecnologia di cui dispone. Con l'ingresso della chirurgia, dell'anestesia generale, il chirurgo ha un tempo illimitato. Al chirurgo non viene più chiesto di fare presto, ma di fare bene. Alla radiologia tradizionale si è aggiunta l'ecografia, poi la tomografia assiale computerizzata, quella conosciuta come TAC, poi la risonanza magnetica, poi la tomografia ad emissione di positroni, meglio conosciuta come PET. Tutte queste cose hanno portato a un cambiamento della indicazione, cioè il motivo per il quale un malatto veniva portato al letto operatorio. Hanno portato a un cambiamento di quello che si faceva durante l'intervento, cioè della terapia. Hanno cambiato letteralmente la prognosi, cioè la possibilità di salute e di vita della persona. Negli anni 90 c'è stata la rivoluzione mini-invasiva. La rivoluzione mini-invasiva che ha subito avuto una larga diffusione, che ha portato a un cambiamento radicale dello strumentario sui nostri nostri, nelle nostre sale operatorie, sono comparsi quegli strumenti che il professor Pietrabissa vi ha fatto vedere, ma che non hanno cambiato né l'indicazione, né la terapia, né la prognosi della malattia. La chirurgia robotica non possiamo dire che si sia diffusa rapidamente nelle nostre saloperatorie, anche perché gli obiettivi sono quelli uguali della chirurgia mini-invasiva. Noi oggi da benestanti chiediamo una sanità sempre più efficace e a questa domanda la società risponde con un aumento, con una tecnologia sempre più sofisticata. Ma quando si parla di tecnologia si parla di economia, si parla di costi. Stiamo parlando di un qualcosa che senz'altro ha un grosso impatto in ambiti molto contenuti ancora, ma mi sentirei sciocco a chiudere gli occhi di fronte a un qualcosa che abbiamo davanti e a una direzione che penso tracciata. Certo, dobbiamo fare i conti con i costi, che sono difficilmente sostenibili in questo momento, ma è un altro tipo di ragionamento. Se la domanda è nel nostro futuro ci sarà la chirurgia robotica? Io rispondo sì.